Palazzo Gromolosa e sede ideale per ogni tipo di evento. In particolare nel piano cantinato sono presenti moderni spazi espositivi dove sono ospitate periodicamente mostre di arte e fotografia spesso realizzati insieme ai vicini palazzi Ferrero e La Marmora con i quali il Palazzo Gromolosa costituisce il polo culturale di Biela Piazza.